Chi non ama non ha conosciuto Dio, perché Dio è amore. In questo si è manifestato l'amore di Dio verso di noi, che Dio ha mandato il suo figlio unigenico nel mondo, affinché noi vivessimo per mezzo di Lui. In questo è l'amore, non che noi abbiamo amato Dio, ma che Lui ha amato noi e ha mandato il suo figlio per essere l'espiazione per i nostri peccati. Carissimi, se Dio ci ha amato in questo modo, anche noi ci dobbiamo amare tutti gli uni gli altri. Di Maurizio Brucci, Dio è amore. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.